Prima di queste ragioni, riprendo quello che diceva il Ministro Lollobrigida, è ribadire ancora una volta il valore e la centralità che questo Governo attribuisce al mondo dell'agricoltura, che attribuisce alla capacità e alla possibilità per i nostri agricoltori di continuare a produrre eccellenze vedendo riconosciuto il giusto prezzo per il lavoro che fanno ogni giorno, perché quelle eccellenze fanno un pezzo estremamente significativo del nostro Made in Italy e noi siamo in un tempo nel quale a problemi strutturali, costi di produzione che aumentano, prezzi di vendita che diminuiscono, si sono aggiunte anche una serie di letture, il Ministro Lollobrigida faceva riferimento all'Europa che noi abbiamo cercato di smontare, che stiamo lavorando per smontare, banalmente lo dirò con la franchezza che da sempre mi contraddistingue, chi ha pensato che si potesse difendere la natura non tenendo conto del lavoro degli agricoltori o addirittura pensando di farlo contro gli agricoltori semplicemente non sapeva di cosa stava parlando, perché gli agricoltori sono i primi bioregolatori e noi dobbiamo ricordarci che per difendere l'ambiente è fondamentale l'opera dell'uomo chi pensa che per difendere l'ambiente bisogna cacciare l'uomo immagina un mondo che non esiste nel mondo reale noi abbiamo bisogno dell'opera dell'uomo per difendere la nostra natura e per difendere anche la nostra capacità di trasmetterla alle giovani generazioni quest'anno